PUM! Ciao ragazzi, non siamo più di un 7 e oggi siamo qua in questo nuovissimo episodio come vedete? Siamo tornati per il terzo episodio su PENGEGE non riuscirò mai a pronunciare il nome di questo gioco comunque, comunque, comunque oggi costruiremo qualcosa di un po' più creativo PAM! Ecco qua con tutta la sua magnificenza il carro pene e comunque l'obiettivo di questa missione è distruggere questo coso e sinceramente mi sembra una grandissima cazzata cioè, noi lo faremo con il carro pene facciamo una cosa di questo genere col carro pene puoi farlo il carro pene per chi non lo sapesse, sapesse anzi no attenzione rivoluzione il carro pene per chi non lo sapesse è una struttura mitologica che vive nel pene allora eh, no, però mmm no però, però si faccio si mette che cazzo no non è capito niente il gioco voglio mettere un cannone che vediamo se io tipo faccio così wuuu wuuu dancing cannon no sta eh, no, 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 no voglio che tipo me lo no, 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 no quindi facciamo qualcos'altro vediamo se c'è questo qui invece no, è sempre quello mmm proviamo a fare qualcosa di più villico villicamente villico allora, noi prendiamo quei cosi qua che volano quei cosi che volano ho detto mettiamo uno qua 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 molto simpetrico perché il coso pene deve volare bene 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 ok così vediamo un po' sì, sì vediamo un po' mi sta crociando giù un pezzo è meglio sistemarlo tiè così è incollato bene è chiuso per bene ok, vai eh, va bene ma se mi lasci giù i pezzi riproviamo a fare così così va bene che cazzo vai no, i rumori eh boh dobbiamo fare così vabbè adesso non si capisce niente però l'ho incollato vai giustamente ora pesa due quintali qua dietro cannon penis penis ok dobbiamo fare oh, è vero c'è questo coso qui noi che non serve a niente intersezione di tu ma così adesso ancora qui lo mettiamo qua vediamo un po' così se funziona dai ragazzi dai buttiamolo giù qualcosa niente da fare pesa troppo ci serve più spinta aerodinamica dietro precisamente tipo qua e anche tipo qua no, qua qua dai piazza ok andiamo un po' tanana nanana penis ah ma spara quel coso bastardello riproviamo perché per me possiamo farci ce la possiamo fare ragazzi però cambiamo design perché il cannon penis non mi sembra funzionare al meglio no direi di no però mi sarebbe no 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 ok adesso magari ve lo ucciserò tutto perché vuoi provare a fare qualcosa di un po' più strano particolare cosa che magari ci metterà una vita magari però potrei provare ragazzi dovete capire che ci gioco anch'io da poco con questo gioco e vorrei provare a fare qualcosa di più carino ok ok sta chiaro ovviamente cose che potrebbero farvi piacere almeno credo credo tipo perché ci sono un miliardo di strumenti tipo string che cazzo fai che cosa fa controllo wef proviamo carica bene gira carica cazzo carica carica contractor spring old l proviamo metterlo qui ok no non funziona ah è una molla tipo vediamo se faccio così se faccio così l oh mio dio oh mio dio ragazzi cosa diavolo ho creato ci ho messo un milione di anni ho dovuto guardarmi alcuni video perché ho provato alcuni concept che mi erano già venuti in mente però non funziona per niente e quindi ho dovuto cercare un po' di aiuto e poi riprodurlo e ora vediamo se funziona il nostro avversario è lì preciso al centro comunque proviamo attenzione la bomba è pronta la bomba esploda l'impatto carichiamo via non ha funzionato porca trovo mozza quindi niente ho tutto questo lavoro per niente ha pure fallito e quindi ora noi mettiamo le gambe oh mio dio per me tipo esplode tutto un'intersezione la tua madre ok alziamola un po' mettiamo le gambine così ci andiamo un po' più inna e più avanti perfetto proviamo oh va benissimo mamma mia che perfetto la macchina miglior macchina chi è che numero è perfetta sto macchina basta andiamo subito avanti anche perché tipo 40 minuti che sto registrando però non ho concluso niente cos'è usa explosivi e tu destroy semplicissimo capita a Genova mamma mia però noi faremo qualcosa di più perché noi non ci accontentiamo giusto ok mettiamo tipo questo qua e questo qui poi qui cosa ci mettiamo noi giustamente cos'è che ci mette dentro di porta cenere e braccia ci mette altre bombe vediamo un po' se funziona che cosa di merda comunque funziona funziona mettiamoci che il flame ball e vabbè qui ho tolto il bracere il bracere vabbè proviamo così senza prendere fuoco perfetto perfetto oggi proprio facciamo i livelli a carreggiare carreggi merda merda qua però io ho un'altra tattica ho un'altra tattica ho un'altra tattica ok facciamo così te potrei mettere gli scudi qua davanti non posso ok potrei mettere gli scudi no non posso qua e qua qua e qua ok anche qui per essere un po' più colazzati e essere un po' più fighi perché in guerra bisogna essere fighi ok mettiamo subito qua sotto ok un'altra una spike metal mi metti non posso mettiamo la flaming ball ci accontentiamo ok però magari potrei mettere le lanciafiamme boh qui no non posso i cannoni ovviamente i cannoni fanno cagare mettiamo le spine no 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 qua ci vuole qualcosa di più raffinato non possiamo mettere la spike ball magari casca no non casca la spike ball però guardiamo 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 al rallentamento no per niente al rallentamento andiamo tranquilli vabbè vabbè esplode tutto giusto nasco la bomba si sposta tiè perché comunque eh no ma quella cosa qui di merda fai bruciare tutto mettiamo piuttosto un'altra bomba dai sono meno pericoloso quindi quelle cose infernali brucia cose porco resta ferma palla precisissimo però torna indietro adesso Pietro torna indietro no non hai caldo basta lancia basta lancia perfetto un tiro da Masterchef però non torno più in dentro col braccio non è che si stacca si stacca e so porto a moneta no ok magari mi sa tipo come spinta mi sparava invece purtroppo non è fatemi pensare che purtroppo una volta che lo usiamo questo non possiamo più 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 riciclarlo lo facciamo così togliamo questi così e questi anzi 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 facciamo così tipo così così anche se mi sa che blocchia la ragata ma noi lo rifacciamo ok adesso prendiamo le armi mettiamo dei bei lancia fiamma l'intersezione ancora sempre intersezione sempre ogni volta intersezione uno qui uno qui e uno qui com'è che si attivano y mentre le cordie si attivano con l perfetto y l forse è meglio fare una cosa di questo tipo forse sono troppo y bruciate non ci fa niente però così non capisco niente infatti moriamo y dobbiamo dagli fuoco aspettare un secondo e intanto che così la mi sparano ehi 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 mi sono praticamente buttato una bomba addosso non è bello y lanciamo la palla perfetto torna su torna su braccio no 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 non darmi fuoco non darmi fuoco non darmi fuoco mi sono dato fuoco da solo ce l'avevo fatta però ce l'avevo fatta quindi ci riproviamo pop lanciamo la palla facciamo esplodere i aceri dentro funziona sta funziona io la faccio funzionare ok ok y bruciate bruciate no 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 non voglio perché mi danno le fredde infuocate com'è possibile com'è possibile dai 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 ma perché ci sono senza parole dopo aver visto questo penso penso di non poter cioè no cioè ha preso vita praticamente cosa diavolo vuol dire allora proviamo a fare un'altra cosa ok eccoci tornati mi salto a volte queste parti perché beh penso non sia al massimo vedere me che continuo a costruire 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 ok ok proviamo subito come avete ho messo le ruote un po' più rialzate con il coso che gira un po' più ghenzo vediamo un po' ho perso una ruota come sono atterrato io direi di partire già abbastati aspettiamo y non c'è più y non è vero però posso lanciare la bomba giù si è spezzato mamma mia che classe mettiamo il coso che tiene il braccio un po' più lancia lancia non va più ah no era l non lo sbaglio ma che ok ok ora posso farci andiamo avanti intanto lancia la bomba troppo lontana però ora ho capito un po' che ce la posso fare guardate di che vabbè voi restate lì che vi devo dire divertitevi con le lame io me ne vado ciao papà sulla mia macchinina che ok diciamo che non è un bello strumento funzionava meglio il lanciafiamme giustamente però il lanciafiamme ci dava anche fuoco piccoli piccoli dettagli no cosa potremmo mettere prima di mettere i cannoni che girano che cazzo sta facendo boh mettiamo il lanciafiamme che gira mettiamo il lanciafiamme che gira ok mamma mia una bestia ok intanto spariamo L non so mai se è L o cosa però ok perché qua prendiamo fuoco vediamo un po' non io ho fatto niente perfetto L che Y ma perché esplode quel coso ok Y lancia lancia no me la distruggono prima come è possibile sta cosa è proprio odiosa ok ragazzi qua purtroppo non funziona questo metro quindi facciamo così salviamo questo coso perché è fighissimo lo salviamo così e adesso diciamo destroy machine ne creiamo una un po' più un po' più ganza allora devo fare il design 900 di tutto ok proviamo a fare tipo la nostra classica broom broom partendo sempre dalla classe di questo gioco torno subito ok riproviamo di nuovo con questo design molto semplice però molto corazzato è anche molto distruttivo a quanto pare però penso di poter ovviare con un semplice braccio vediamo un po' se è davvero davvero così ok un braccio l'ho messo magari mettiamo due anche di là perché si spacca tutto in mille pezzi che cazzo vabbè è andato un po' diverso non come volevo però una volta che non si spacca a me che mi frega sicuramente ora non mi fanno un baff vaffanculo vaffanculo io parlo e poi faccio i fail proprio camorosi proviamo a fare così mi fai mettere mi fai mettere questo perfetto qua 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 facciamo una bella struttura sotto ok abbiamo perso un pezzo subito abbiamo visto ma perché perdi pezzi vabbè andiamovi addosso ciao te può funzionare può funzionare può funzionare quel canone però mi sta un po' sui coglioni adesso sto registrando da 44 minuti una cosa un po' assurda no? giusto? ed eccoci ritornati ora boh ho provato a fare quest'altro coso spero funzioni ciao a tutti mi chiamo Fabio non mi piace la nutella a caso e comunque proviamo a far questo però non mi ricordo mai come si spara con quei cose c e y lo ampiamo stavolta ah e la sega elettrica lì davanti gira sempre quindi tipo ammazza tutti e fa anche minchia il cannone l'ha ucciso vabbè c e y cazzo ok un cannone fuori uso però ho sbagliato tutto proviamo a far subito così tipo no però se feillo vediamo un po' se riesco tipo a fare fuori almeno un cannone là c'è l'altro però meno uno almeno ok se però mi danno fuoco i tizi vaffanculo ma vaffanculo io ho messo fuori quelli davanti lol vabbè chissà se no ma se tipo io passo e me ne sbatto le palle di tutti ok passiamo andiamo tranquillamente intanto spariamo così facciamo giù una fila non ho un po' niente va bene va bene andiamo lo stesso fanculo ce la facciamo ce la facciamo ragazzi ce la facciamo ce la facciamo azioniamo tutto dai dai voglio marcia tra poco mi viene un'altra idea però molto più omicida gioco non mi fa incazzare perché guarda che tutti ultimo attentativo se non funziona questo ragazzi vi giuro che vi creo giù una macchina da guerra che penso che faccia paura a Hitler dai ok torno subito ragazzi torno subito vai gli esplodono fanno i coriandoli soppa le teste però no vai qui lo passiamo tranquillamente roba le bombe successo ragazzi successo 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 oh mio dio ragazzi è da un'ora e un minuto che salita oh mio dio che livello di merda è bello questo livello è stato molto bello adesso facciamo anche così tanto che mamma mia ragazzi mamma mia è stata davvero dura comunque spero che questo episodio vi sia piaciuto se è così vi ricordo di fatemelo sapere nei commenti nei commenti davvero i ragazzi ci sto mettendo l'anima per fare questa serie perché non vi immaginate che ci metto una vita è da un'ora che sto registrando guarda lo rifaccio ancora sono troppo forte è da un'ora che la sto rifacendo sta sfida quindi ragazzi spero davvero che questo episodio vi sia piaciuto guardate qua che bella la mia macchinina attuale incianguinata spero che questo episodio vi sia piaciuto come sempre vi ricordo di lasciare un bel piaccio commentate iscrivetevi ok non avete capito niente cazzo perfetto e pum non c'è aiutatevi si sta fondendo il cervello comunque se non mi piace commentate iscrivetevi noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao